Secondo me abbiamo fatto qualcosa di, non vorrei esagerare, ma diciamo vicino all'eccezionale perché la crescita di questo gruppo è stata impressionante. Sono ragazzi che hanno dimostrato di essere speciali. Io sono felicissimo oggi perché è chiaro per la vittoria. Ma anche avere una conferma dalle scelte, non fatte quest'estate, ma già partite con l'Europeo su questi ragazzi che hanno qualcosa di speciale, che devono conservare chiaramente e utilizzare sempre meglio. Devo dire che questo gruppo dopo l'Europeo, che era stata una cosa molto rapida, abbiamo vinto eccetera, ha provato per la prima volta alcune sensazioni assieme che erano quelle di essere considerati in modo diverso. Ha avuto questa breve esperienza di sconfitta e siamo stati bravi, sono stati bravi a usare questo poco tempo a farlo diventare oro. A farlo diventare oro perché noi dalle sconfitte di Bologna ci siamo messi in un mese a crescere, a costruire qualcosa sempre di più fino ad arrivare a oggi oggettivamente e questa è una grandissima prova dei ragazzi.